La classe leggera è sicuramente la classe più difficile da usare in assoluto su The Finals, ha un altissimo potenziale e probabilmente alle armi con il più alto dps del gioco, soprattutto qualcuna, ma è altrettanto pericolosa da usare perché avrete poca vita, anzi pochissima, ogni cosa che vi sparerà vi sciotterà letteralmente, la maggior parte del tempo proprio per questo motivo vi converrà a giocare lontano dal vostro team, magari sarete anche invisibili. Quindi, insomma, il light non è facile, dovrete essere veloci, scaltri, precisi, altrimenti verrete uccisi. Nonostante questo però è sicuramente divertente da usare, ma in ranked se ne vedono pochi, almeno dopo il primo round, proprio per questi motivi che vi ho appena elencato, perché la sua difficoltà è alle stelle, quindi sì, si può usare ragazzi, però diciamo che dovete mettere parecchio tempo all'interno del gioco per far sì che il vostro light sia efficiente e che sia utile soprattutto al team e che non andate alla ricerca soltanto delle kill per cercare di vincere la partita, quindi questo è da tenere bene a mente. Comunque, se volete anche solo provarla in quick cash o volete provare a usarla anche in ranked, perché no, questa è la guida che fa per voi. Vi spiegherò quali abilità usare, quali gadget usare e perché e quali sono le armi migliori e soprattutto quale utilizzare in alcune circostanze, in alcune team comp e su alcune mappe. Prima di iniziare vi ricordo un paio di cose, la prima è quella di commentare qui sotto soprattutto se siete light main, se avete qualche consiglio aggiuntivo per tutti quelli che cercano ulteriori informazioni sulla classe leggera di The Finals e poi vi ricordo di iscrivervi al canale per continuare a vedere altri contenuti su The Finals se questo vi piacerà. Detto questo partiamo dalle abilità. Le abilità del light sono tutte e tre buone abilità. Avrete a disposizione il dash, il grappling hook e il clocking device. Il dash non è nient'altro che tre cariche di dash, quindi di spinta in avanti. Avrete la possibilità di muovervi molto velocemente e avere questa spinta che non farà vedere agli avversari dove andrete. Ovviamente non diventate invisibili, però diventerete molto difficili da colpire. Lo potete utilizzare durante il combattimento. Se per esempio state combattendo con qualcuno e volete fare destra-sinistra, passarli dietro eccetera eccetera, potete utilizzarlo per andare dietro ai vostri avversari, quindi per coprire distanze maggiori rispetto ai vostri compagni di squadra e quindi, come vi dicevo, magari aggirare il nemico da dietro. Ed è un'abilità, secondo me, abbastanza a tutto tondo. Questa abilità vi permette anche, se volete, di andare in aria. Ovviamente il light, a meno che non abbia il rampino, ha sicuramente, secondo me, bisogno di un medio che lo aiuta, tra virgolette, a spostarsi un pochino con una zipline o con un jump pad, quindi tenetelo sempre a mente che il medio rimane sempre una delle classi più versatili del gioco. Detto questo, invece, il rampino non fa altro che darvi un rampino. Molto semplice. Il rampino vi permetterà di scalare, vi permetterà di andare più veloce davanti a voi, se volete. Potete anche utilizzarlo in combattimento, perché no? Proprio esattamente come il dash, quindi quando siete in combattimento potete mettere il rampino a terra o su una parete e spostarvi da una parte all'altra dell'arena per cercare, appunto, di essere meno colpiti dai vostri avversari, perché, come sappiamo, appunto, la poca vita del light non vi darà tanta sopravvivenza. Infine abbiamo forse quella più utilizzata e anche abusata di tutti, che è l'invisibilità. Il cloaking non vi dà altro che, appunto, l'invisibilità. Per un tot di secondi voi sarete completamente invisibili. Fate attenzione, però, a due cose. La prima è che, quando diventate invisibili o anche quando siete invisibili, voi farete un piccolo rumore. Ok? Quindi qualcuno potrebbe accorgersi di voi se attivate l'invisibilità vicino a loro o se siete anche soltanto in vicino a loro, quindi non siete completamente invisibili. Senza contare che nei primi millisecondi di quando diventate invisibili si vede ancora un pochino, senza contare che se in più vi muoverete, un pochino la vostra forma farà una sorta di glitch visivo che un pochino, insomma, vi si vede un pochino. Ovviamente dovete beccare di fronte a voi una persona che sta attenta a queste cose, quindi non sarete proprio completamente invisibili, che nessuno vi vede, però per la maggior parte del tempo sì. Cosa aggiuntiva, se sarete immobili, ancora meglio. Perché ovviamente il glitch visivo che vi dicevo si crea quando voi vi muovete, qualcuno vi mira, e ovviamente vede che c'è qualcosa che si muove, che c'è qualcosa che non va. Ok? Quindi invece se sarete completamente fermi, loro non vi vedranno mai. Queste tre abilità ovviamente sono tre abilità che secondo me si sposano alla perfezione con determinate armi, che adesso andremo a vedere, e con determinate strategie, che anche queste adesso andremo a vedere con qualche gadget. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere direttamente le armi del Light. Allora, in realtà il Light ha un arsenale secondo me molto buono. A parte i lanciabili, i coltelli e le lame, che secondo me sono un po' armi meme, tra virgolette, che si possono utilizzare così per divertirsi un po' nel tempo libero, se volete insomma andare a divertirvi in quick cash o cose del genere, anche se guardate un po' su YouTube ovviamente trovate quello che dice insane gameplay con la sword che va in giro ad affettare tutti, però insomma sono gameplay che lasciano il tempo che trovano. Nulla da dire, ovviamente potete utilizzarle anche in ranked, scelta vostra. Però io partirei dall'SR84 che è il cecchino. Allora, il cecchino è forse l'arma più difficile da utilizzare in tutto il gioco, perché è divertente per tutti voi amanti come me e a chi ho provato a usare il cecchino, perché mi piace molto cecchinare su questi giochi, però è difficilissimo ragazzi. Difficilissimo perché il cecchino non fa tanto danno, ha bisogno di un headshot e un body shot per esempio per shottare un medio, e ha bisogno di due headshot per shottare un heavy pesante. Questo si trasforma in letteralmente tre body shot per i medi e forse quattro body shot per gli heavy, ora non ho fatto bene i calcoli, però insomma ha un time to kill un po' così. Quindi è un'arma che può funzionare, dà fastidio, sicuramente aiuta i vostri compagni, perché comunque mettere one shot una persona subito all'inizio dello scontro permetterà ai vostri compagni magari di finirlo, quindi è probabile che voi finirete la partita con tanti assist piuttosto che con tanti kill, ma ricordatevi sempre, la cosa importante è che vinca il team, non le vostre kill, quindi è importante concentrarsi sui soldi, sui vault, sui cashout e sulla difesa dei cashout. E soprattutto il cecchino può essere utilizzato su alcune mappe, secondo me. Ci sono alcune mappe che funzionano meglio e altre mappe che funzionano peggio. Per esempio utilizzerei il cecchino su Seoul, su Monaco, non lo utilizzerei per esempio dentro Las Vegas, Las Vegas è improponibile, si può fare ovviamente, però è molto difficile calcolando che quasi tutti i cashout sono all'interno, ce ne sono giusto un paio che sono quelli che sono o sui tetti o quello sopra alla struttura di ferro, che potete un pochino difendere con il cecchino, ma molto difficile. La maggior parte degli scontri anche per prendere i vault sono all'interno, quindi difficile. Bello, divertente, mi piace un casino, ma difficile, ragazzi, molto difficile. Per quanto riguarda il cecchino io lo utilizzerei con il dash o con il rampino, scusate, questo perché avrete a disposizione la possibilità di muovervi, quindi anche se siete corpo a corpo avrete la possibilità di fare qualche quickscope, qualche noscope, se riuscite a muovervi nella maniera giusta. Inutile utilizzare l'invisibilità perché tanto, insomma, poi starete lì un pochino a mirare con il cecchino e quindi l'invisibilità in questo caso sarà inutile. Poi abbiamo l'LHA-1, che è letteralmente l'M1 Garand, per quelli di voi che magari sono appassionati di armi della Seconda Guerra Mondiale, che ha un buon potenziale a range, ha un buon time to kill, il problema è che è un'arma semiautomatica, ha 15 colpi, ha una ricarica di 2.7, il che la rende un'arma che sì, si può utilizzare, l'ho vista utilizzare, però le armi semiautomatiche secondo me sono un po' particolari in questo gioco, perché sì, sono forti, però non ti permettono di buttare fuori tutto quel DPS che un'arma automatica invece può fare. Quindi l'ho visto usare qualcuno, ci ha fatto qualche video, può essere carina, hai un po' di range rispetto a tutte le altre armi del Light, però sono sincero, non penso, a questo punto se dovete utilizzare quest'arma io andrei direttamente con la classe media. Poi andiamo a corto raggio invece, a corto raggio abbiamo tre armi che sono secondo me ottime, e che sono la prima, la V9S, che è una pistola, anche questa semiautomatica silenziata, che si sposa benissimo con il gameplay del Light, ha un bassissimo DPS perché fa veramente molto molto danno. Il problema di quest'arma, come appunto l'LH1, è che è semiautomatica, quindi non riuscirete sempre a tirar fuori il massimo del DPS, perché appunto il DPS poi dipenderà non da quanto tenete premuto il mouse, ma da quanto sarete veloci a spingere il mouse o i trigger del pad. E quindi, per quanto sia forte, se non cominciate a missare qualche shot, perché ovviamente può capitare, e non siete velocissimi a sparare, automaticamente quest'arma viene superata in DPS da qualsiasi altra arma automatica, e quindi o siete super preciti e siete super veloci a sparare con il vostro grilletto, con quest'arma, altrimenti non consiglio di utilizzarla, perché già che se cominciate a missare qualche colpo, automaticamente come vi dicevo, il vostro DPS scenderà, però è un'arma che si utilizza, ha un discreto range, ma è sempre un'arma ravvicinata. Diciamo che è un po' più versatile rispetto alle altre due mitragliette, ma io la metterei più o meno all'interno della stessa categoria. Le altre due mitragliette che vi dicevo sono l'MP5, qui tradotto XP54, e l'M11. Allora, parentesi, l'M11 durante l'ultima patch di Natale, che è appunto uscita a dicembre, è stato baffato, è stato aumentato il suo danno da 15 a 16, il che l'ha fatta diventare leggermente migliore in termini di statistiche rispetto all'MP5. Statistiche migliori in termini di DPS e time to kill, ovviamente, che l'ha portato leggermente sotto appunto all'MP5. Quindi, a livello di statistiche, l'M11 è più forte dell'MP5. Però, perché vedete ancora tanti light main utilizzare ancora l'MP5 invece che l'M11? Presumo che sia una questione di mirino e di feeling dell'arma. L'M11, nonostante abbia leggermente più range, è molto meno preciso, nel senso che si muove molto di più, ha un recoil un po' più particolare. E quindi è un'arma che secondo me è meno versatile dell'MP5, perché si utilizza principalmente veramente molto, ma molto a curto raggio. Quindi la metterei più o meno questa nella stessa categoria del canne mozzie. Proprio perché ha questa curiasi un po' bassa, non vi permetterà di essere molto precisi già alla media distanza, calcolando che ha anche un mirino molto molto molto, ma molto brutto. E quindi anche qui è una scelta che potete fare in base a come giocate, che mappa avete e appunto come deciderete di difendere poi i cash out, se è un po' più lontani, un po' più vicini. Questa sarà la vostra scelta che dovrete fare. Con l'MP5, secondo me, guadagnate un pochino di precisione, perché appunto hai red dot, quindi sarete più precisi nello sparare, anche eventualmente a medie e lunghe distanze, anche se ovviamente è sempre un mitra, quindi a lunghe distanze non farete sicuramente il danno di uno scar, toglietelo dalla testa. Avrete meno colpi, ok? Fa più danno ovviamente perché il time to kill è simile a quello dell'M11 e avete una ricarica leggermente più lenta. Però ne guadagnerete in versatilità, quindi sarete più versatili, potrete affrontare scontri magari a una distanza e con l'M11 non riuscirete a colperire. E quindi, non lo so, secondo me, la sua versatilità è quello che lo rende, secondo me, ovviamente, migliore dell'M11. Però provateli entrambi, vedete un attimino che cosa ve ne pare e poi fatemelo sapere qui sotto. Quindi, capitolo armi lunghissimo, chiudiamolo subito e andiamo a vedere i gadgets del Lite, che come vi dicevo sono molto, molto particolari e molto utili da utilizzare. Allora, io partirei da quelli migliori che, secondo me, vanno utilizzati con il Lite. La prima è sicuramente la stun gun. La stun gun è una cosa devastante che può essere utilizzata con qualsiasi abilità. La maggior parte delle volte lo vedete utilizzare molto con l'invisibilità. Quindi uno è invisibile, si avvicina, stunna con la stun gun. Lo stun non permetterà di entrare in mira, vi andrà a rallentare tantissimo e in più non potrete utilizzare nessuna abilità. Quindi è molto, ma molto forte. Fatta questa accoppiata, probabilmente, se vedete nel vostro schermo stunned, a meno che il vostro Lite non è un po' scherzo, probabilmente morirete. Perché ve lo ritrovate magari faccia a faccia, appunto, con il canne mozze, di cui non abbiamo parlato, ragazzi. Mi sono dimenticato del canne mozze. Il canne mozze è l'arma che avrete sicuramente visto più utilizzata per quanto riguarda i Lite, perché ha un DPS devastante, fortissima, con due colpi, se presi bene, shottate lievi, i pesanti, però dovrete essere molto, ma molto vicini e molto, molto precisi. Se slisciate qualche colpo, automaticamente il vostro Lite morirà. Come vi dicevo, dovrete essere scaltri, veloci e precisi. Assolutamente da utilizzare l'SH1900 con l'invisibilità, perché altrimenti perderete un sacco di potenziale. il vostro punto di forza sarà quello di utilizzare l'invisibilità per avvicinarvi il più possibile ai vostri avversari e distruggerli da un metro. Neanche, dovrete essere attaccati, ragazzi. Però è quella che ha più potenziale di tutte, quindi sicuramente con l'invisibilità utilizzerei il canne mozze. Comunque, torniamo un attimino alle abilità della Stonegram, vi ho già parlato. Un'altra abilità molto, ma molto forte è la Glitch Granade. La Glitch Granade vi permetterà di glitchare i vostri avversari e questo permetterà agli avversari di non utilizzare le loro abilità. Nessuna. Che siano appunto torrette, cure, scudi, qualsiasi abilità che voi pensiate, anche granate, eccetera, eccetera, non potranno utilizzarle. Quindi la Glitch è sicuramente un'ottima arma sia da difesa che di attacco. Può essere utilizzata per attaccare un cashout, quindi disabilitare le abilità dei nemici, o difendere un cashout, quindi disabilitare le abilità degli attaccanti. Anche il Light ha la Bridge Charge, che è un C4, ovviamente ne avete una sola, anziché due, come il C4 normale del Levy, e probabilmente fa anche leggermente meno danno. Può essere utile da avere su Light, per fare una mini bomba, proprio come fa il Levy, però ovviamente non shotterete come il pesante, però può essere utile per far cascare cashout. Per tenerlo sul cashout, se magari, che ne so, mettete una bombola a gas, che può essere utilizzata per coprire il cashout, durante appunto una difesa, e può essere utilizzata in quel modo lì. Ovviamente tutte le granate, non ne parleremo perché ne abbiamo già parlato, ma le granate sono quelle che fanno un po' di casino. Io di solito, su Light, utilizzo la Frag. La Frag mi permette di avere un po' più di danno in più a range, quindi metti caso che stiamo entrando in un punto e io sono appunto o col canne mozze o col cecchino addirittura, e quindi devo finire una kill, o devo iniziare a fare una kill per cercare di poi buttarlo giù con il cecchino, utilizzo una granata per aprire o chiudere uno scontro, il che mi permette di avere un po' più di danno, il che non è affatto male. Il Thermal Vision è un'abilità particolare, nel senso che l'ho usata un po' in quick cash, vi permette di vedere praticamente in bianco e nero e evidenziare i vostri avversari appunto in bianco, però è un po' confusionaria, può essere utilizzata insieme alle smoke, quindi voi tirate la smoke su un punto e attivate la Thermal Vision, quindi i nemici non vedono, voi sì. Può essere una combinazione particolare, carina da avere, calcolate che però ovviamente siete sempre visibili ai Recon, quindi chi ha dei Medi, il Wallach, vi vede lo stesso, e poi non è che sia così tanto utile, cioè dovrete anche magari andare in giro e cercare, che ne so, i barili che hanno il gas e la smoke, scusate, per usare poi il Thermal Vision. Carino, ma sicuramente non è in cima alla lista delle migliori abilità del Light. C'è invece la Vanishin Bomb. La Vanishin Bomb vi permetterà di diventare invisibili, sia a voi che ai vostri alleati, per un po' di secondi. non dura quanto l'invisibilità del Cloaking Device, però se volete potete utilizzare un'altra abilità, come per esempio può essere il Dash, e mettervi la Vanishin Bomb. Sconsiglio di farlo con il Canemozze, perché non avrete abbastanza tempo per avvicinarvi, però consiglio di utilizzarlo magari o con il cecchino, perché no, o con tutte le altre armi, questo perché vi darà quei pochi secondi che vi permetteranno o di iniziare uno scontro o di scappare da uno scontro, eventualmente utilizzando appunto la Vanishin Bomb e scappare via. Detto questo, facciamo velocemente qualche esempio di build, perché vi ho trattenuto fin troppo oggi con il Light. Partirei con il Dash, che potrebbe essere utilizzato con le mitragliette, con il cecchino. Poi metterei Glitch Granade, Vanishin Bomb, se volete, oppure come vi dicevo anche la Frag, e la Stungan è quella che io lascerei sempre imprescindibile in tutte le build. Altra cosa che potete utilizzare con il cecchino, se mettete il caso non avete un medio che vi permette di dare verticalità al vostro gameplay, metterei Rampino, Rampino, cecchino, Glitch, Frag e Stun, è un buon loadout. Se invece volete utilizzare il Clogging Device, qui andrei sicuramente con il Cane Mozzie, lascerei la Glitch, toglierei la Frag, eventualmente per mettere la Breach, Charge, o meglio la Gas, se volete proteggere il vostro cache out, e ovviamente come vi dicevo, la Stun. Questo loadout può essere utilizzato, questo loadout può essere utilizzato eventualmente anche con tutte le mitragliette di cui vi ho già parlato, quindi la MP5, la M11, o se volete utilizzare qualcosa di semi-automatico, il V9S. Quindi ragazzi, questo era il Light, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi, se lo utilizzate, se siete Light Main oppure no, io vi ringrazio di aver visto questo lungo video a questo punto, spero che vi sia stato utile, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie per la visione!